Il ponte degli asini è sulla steppa a triangoli organi sessuali. Alla fine del bucente il filosofo Ruggiero Bacone introdusse l'espressione ponte degli asini, Pons Asinorum, per indicare un teorema o un tipo di silogismo che doveva essere imparato per andare avanti nello studio. Il quinto teorema del primo libro di Euclida è quello che dimostra come in un triangolo che abbia due lati uguali, sono uguali agli angoli opposti e agli accenti ai due lati addetti. Io qui non ho da indicare un singolo passaggio che ritengo esenziale per andare avanti. Ce ne sono tanti e proverò a dare un elenco. Ritengo dunque che per poter leggere questa libro bisogna conoscere innanzitutto i rudimenti della geometria di Euclida, compresa il teorema di Pitagora. Quest'ultimo credo che lo conoscano tutti. Dice che il quadrato costruito sull'ipotenusa ha aria uguale alla somma di quelli costruiti sui cateti di un triangolo rettangolo. Il matematico Gauss lo riteneva così importante che aveva proposto di tracciare sulle steppe russa nella rappresentazione grafica del teorema. I lati del triangolo e dei quadrati sarebbero stati filari di abeti neri lunghi migliaia di miglia. Le aree rilevanti sarebbero state coltivate con orzo verde in primavera. Lo scopo era quello di comunicare a eventuali abitanti di altri pianeti che la terra è abitata da essere intelligenti. Quando mio nonno è il poeta Dolfo Debasis, seppi di questa proposta, ho abiettato. Il teorema di Pitagora non è così importante. È più importante il sesso. Perché non tracciare sulle steppe enormi figure degli organi sessuali, maschile e femminile? Diremo agli extraterrestri. Noi siamo fatti così e voi? Comunque non c'è bisogno di saper dimostrare il teorema di Pitagora. In questo libro non presenterò quasi nessuna dimostrazione rigorosa, ma sono spiegazioni sperabilmente convincenti. Serve invece esprimere con una formula. Se chiamiamo l'ipotenusa del triangolo a rettangolo B e C i cateti, il teorema di Pitagora dice che A quadro è uguale a B quadro più C quadro, da cui si deduce subito che A è uguale alla radice di B quadro più C quadro. Dichiariamo ora solo l'elemento che non si deve mai cercare di fare divisioni per zero. In matematica la divisione per zero è un'operazione che non esiste. Se si prova a dividere per zero vengono fuori risultati falli. Si può anche dimostrare che 1 è uguale a 2. Boh. Si dimostra così. A uguale a B, A quadro uguale a B, A quadro meno B quadro uguale a B meno B quadro. Allora, A più B per A meno B uguale a B per A meno B, A più B uguale a B, 2A uguale a A, 2 uguale a 1. È un'operazione illegale, la divisione per A meno B che è uguale a zero. Ora, perché non si usino mai i numeri che portano l'affare di bisogno per zero? Comunque se sciolgono i numeri A, B, C e D, mi attendo che trovate evidenti le relazioni seguenti o quantomeno che ve ne possiate convincere nel giro di pochi minuti. A per B uguale a B per A. A per B per C. U uguale a B per C. A per B più C uguale a B più B C. A più B per C più D. U uguale a C più AD più B C più B D. Se A più B è uguale a C, allora A uguale a C meno B. Se A per B è uguale a C, allora A uguale a C fratto B, B uguale a C fratto A. Darò anche per scontato che sappiate fare le operazioni con le frazioni e che non abbiate difficoltà ad apprezzare che sono giuste le relazioni. A fratto B per C fratto D uguale a C uguale a C uguale a C fratto B per D. A fratto B fratto C fratto D. U uguale a A per D fratto B per C. E tante altre analoghe che però, come promessa, richiamerò quando sarà necessario. Diamo per scontate le quattro operazioni. Certo che dovremmo dare per scontate almeno per due ragioni. La prima ragione è che si imparano le mentali. La seconda ragione è che ormai anche la persona che aveva difficoltà a fare le divisioni con le decimani riesce a fare le quattro operazioni in modo istantaneo. È in genere giusto adoperando un calcoloso. Una calcolatura c'è tascavile. Queste macchinette non hanno quasi più un valore benale. Le regalano come premio e insieme ai dettagli simi si trovano buco. Funzionano neanche bene. Però ho scritto sopra che sono i risultati in genere giusti. Questa riserva va spiegata. Ogni tanto succede che si imposti un calcolo su una calcolatrice elettronica e il risultato sia sbagliato. Molto spesso la causa è che uno ha impostato male i numeri. Se la macchinetta non scrive i numeri che si mettono dentro è quasi impossibile. Accorgesi della sbaglia. Una se ne accorge se già aveva fatto qualche ragionamento sull'ordine di grandezza del risultato che doveva venire fuori. E se qualche risulta invece è ad esempio 10 volte più piccolo o più grande. Una se ne può accorgere più metodicamente se esegue il calcolo due volte e ottiene due risultati diversi. E non c'è nessun modo semplice di evitare questi errori di distrazione. Bisogna starci attenti. Ogni volta bisogna guardare su un piccolo schermo che cosa è scritto davvero. Che cosa si è scritto davvero. Il mio vecchio professore di analisi matematica Mauro Piccone ripeteva spesso. Ricordate che calcolo fatto è calcolo sbagliato. Ricontrollateli sempre. Ma c'è una situazione più generale in cui le calcolatrici anche quelle professionali più grossi anche i computer sbagliano sempre. Questo succede quando si cerca di eseguire operazioni con numeri troppo grandi. Allora il risultato viene fuori sbagliato e qualche volta la macchinetta mi avvisa dall'errore. Mentre qualche altra volta non mi avvisa a seconda del modello. Allora vi sto per spiegare come si possono fare calcoli su numeri di 13 o più cifre anche con una macchinetta che arriva al massimo a otto cifre cioè 99 milioni e 999 mila 999 che è uguale a 100 milioni meno 1. Prendendo una calcolatrice così un vecchio sagno CX 8034 che lavora quasi 20 anni e cerco di sommare due numeri di 12 cifre 123 miliardi e 456 milioni e 789 mila 12 più 487 miliardi e 654 mila e 654 milioni e 321 mila 98 nel caso non si fosse capito questa roba qui batto il primo numero e la macchinetta ne registra solo le prime 8 cifre non indica affatto che ne ha perse 4 poi batto il tasto più e quindi il secondo numero ora batto il tasto uguale risultato a C1,1111111 questa C davanti al risultato mi avvisa che il risultato non è quello giusto il numero da rappresentare è troppo grande a questo punto potrei limitarmi a ragionare la somma di due numeri di 12 cifre se uno dei due comincia per 9 ma a 30 cifre dunque il risultato che ho ottenuto diventa corretto se ne attribuisco 30 cifre ne conosco già 8 e ne aggiungo 4 ottengo questa roba qui che va oltre il miliardo che non sarà giusta perché le ultime 5 cifre in generale saranno diverse da 0 ma sarà affetto da un errore non troppo grande però ne aggiungo 4 cifre non troppo grande non troppo grande ma sarà affetto